Mi hanno parlato di una nuova boutique, la prima pizza boutique al mondo, Fiamma Scarlatta. Venite con me. Peter ci sta aspettando, entriamo. Ciao, buongiorno, benvenuti a Fiamma Scarlatta. Ciao Peter, raccontaci un po' di questa novità a Parma. Allora, Fiamma Scarlatta è la prima pizza boutique di Parma in Italia e al mondo. Le nostre pizze sono pizze fresche, completamente fatte a mano, in maniera artigianale, vengono conservate in atmosfera modificata, hanno una durata di 30 giorni e si conservano in frigo. Le pizze possono essere consumate direttamente quando si vuole mangiarle, non c'è bisogno di scongelarle essendo appunto refrigerate. Le pizze possono essere comprate, portate a casa e cotte o altrimenti abbiamo qua il forno e in due minuti la pizza è pronta. Invece col forno di casa la cottura a temperatura massima ci vogliono circa 5-6 minuti. E allora non mi resta solo che assaggiarla. E allora vi aspettiamo qui in via Farini 35A da Fiamma Scarlatta a Parma. Buon appetito!